In Sicilia l'epidemia influenzale inizia tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio, anche se alcune previsioni indicano che quest'anno il virus potrebbe cominciare a circolare in anticipo rispetto agli anni precedenti. Le malattie para-influenzali e da raffreddamento che si verificano prima di questo periodo non sono attribuibili, contrariamente a quanto spesso ritenuto dalla maggior parte della popolazione al virus influenzale. In considerazione della permanente circolazione del coronavirus, la vaccinazione anti-influenzale risulta ancora più importante per distinguere le due infezioni, tenuto anche conto che quest'anno è previsto un aumento considerevoli dei casi di influenza rispetto agli anni precedenti. L'ASPO6 comunica che è in corso la campagna di vaccinazione anti-influenzale. L'offerta è gratuita per tutti gli over 60 che potranno accedere ai centri vaccinali di Palermo e provincia, tutti i soggetti in età pediatrica o adulta affetti da malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, circolatorio, da diabete e altre malattie del metabolismo, donne in gravidanza e bambini a partire dai 6 mesi di età, ricoverati nelle strutture per lungo i degenti e ancora operatori sanitari, familiari a contatto di soggetti ad alto rischio, addetti a servizi pubblici di permane interesse collettivo e determinate altre categorie di lavoratori, tra cui quelli a contatto con gli animali. La somministrazione può essere fatta nei centri vaccinali dell'ASPO, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta aderenti al programma vaccinale promosso dall'assessorato regionale alla salute.